Le nostre storie dal Salone del Libro non finiscono, le riconoscete sicuramente molto più voi che non io. Eugenio in via di gioia, Eugenio e Paolo, buona giornata e benvenuti al Salone. Grazie, grazie. Un bel inizio, un bel inizio. La prima domanda allora è d'obbligo, che ritmo, che sound, che mood avete ascoltato in questo Salone, che aria si respira? Allora sicuramente dobbiamo tirare tutti un bellissimo sospiro di sollievo perché non piove. E quando Salone del Libro non piove è il contrario della sposa, è fortunata quando non piove e quindi c'è un bellissimo mood. Sì, tra l'altro è già pienissimo di giovedì che io mi aspettavo invece, sai, un po' meno affluenza, invece pieno di scuole, pieno di ragazzi giovanissimi. Bello, bella atmosfera. Cosa avete? Avete incontrato un pubblico molto giovane qui al Salone e che cosa avete fatto? Abbiamo appena discusso su un libro nello stand di Aboka, un libro che si chiama non è la fine del mondo e tratta il tema del cambiamento climatico con uno sguardo un pochino più ottimista, che ci sembra interessante. Non direi di non giugere altro, è stato bravissimo, ha detto tutto. Bravissimo, è dato l'altro, si chiama Eugenio e è una garanzia, no? È una garanzia. Il tema di questo Salone è un po' la meraviglia, lo stupore, la vita immaginaria. È ancora possibile una meraviglia oggi? Per i giovani soprattutto? Oppure magari consegniamo un mondo legato anche al tema che avete trattato, in cui ci si fatica un po' di più a meravigliarsi. E quanto contribuisce la musica? Wow, che bella domanda! Siamo molto legati al tema della meraviglia e crediamo fortemente sia fatta di due grandi macroemozioni, che sono la paura e il desiderio. I bambini quando è che si meravigliano? Quando gli racconti una favola e hanno la curiosità di scoprire come va a finire? Perché c'è il protagonista che di solito è questa figura positiva, però c'è il bosco, c'è il lupo, c'è la strega e quindi c'è la paura. La meraviglia arriva lì, nello stupore dell'incontro tra desiderio e paura. Chiaramente viviamo in un mondo estremamente pauroso, spaventoso e quindi basta aggiungere un pizzico di desiderio e a quel punto si ottiene la meraviglia. Sono d'accordissimo con tutte queste parole, aggiungo anche il fatto che è già solo venire qua e mi sono stupito di tanti nuovi stand che ho visto, tante nuove iniziative che ha preso questo Salone del Libro, quindi già su questo mi sono stupito positivamente. Per scrivere musica, visto che in un Salone del Libro non esisterebbe un libro se non ci fossero almeno due lettori, quanto è importante leggere? Ah, caspita, leggere è importante. Leggere è importante per motivi diversi a seconda dell'età e dei momenti in cui si legge. Io fino ai 18 anni non leggevo e quindi capisco tutti i miei nipoti, ho dieci nipoti, che non vogliono leggere. Sì, mie sorelle sono andate da fare, ho dieci nipoti e quindi ogni volta che li vedo che non hanno voglia di leggere li capisco profondamente. E dall'altra parte credo che ci sia un tempo, la mela cade quando è matura e quindi arriverà il momento per tutti di leggere. Mi appello ai nipotini di Eugenio, leggete ancora di più che siete molto più bravi di vostro zio.